Inizierà giovedì 7 luglio il calendario di Umbria Jets, festival di musica jazz e contemporanea. Giunto alla sua ottava edizione, l'appuntamento musicale più atteso dell'estate della provincia di Sondrio da quest'anno dà il nome anche alla neonata associazione culturale e nel cartellone trova nuove prestigiose collaborazioni tra arte e musica come conferma lo storico energico organizzatore Giovanni Busetto. Sempre molto vario, è sempre un laboratorio culturale che prevede una serie di eventi non solo musicali ma un linguaggio e un'interazione tra le arti, quasi un ponte che va a comunicare con varie forme culturali e artistiche. Ci saranno parecchie contaminazioni con uno spettacolo all'auditorio di Sondrio che sarà prima un concerto e poi un lavoro, un'interazione tra video, danza e musica. E poi alla Miniera La Bagnada, luogo nostro ormai da anni che collaboriamo con il Comune di Lanzada ci sarà un duo di musicisti che dialogherà sulle culture orientali e anche locali perché ci saranno delle piccole sorprese con dei lavori elettronici verranno a proposito delle musiche già registrate alla Bagnada in altre occasioni. Tra le novità la partecipazione del distretto culturale con il video sui terrazzamenti valtellinesi proiettato tra le esibizioni di Antonio Zambrini Piano e Gaia 4 sabato 16 luglio nell'area Edilbi. Confermato e inossidabile invece il legame con il Comune di Piateda che spiega al sindaco Aldo Parora il 29 e 30 luglio metterà in vetrina alcune delle sue chicche prima con Don Pasta e il suo show tra musica e cucina alla centrale Enel Green Power poi con il trio amaro Ronzio di Zanzara a 1.400 metri di quota. Facciamo conoscere centrale Boffetto nel suo stile architettonico molto curato e la contraddina di Ambria dal quale nasce il nome abbastanza presuntuoso paragonato a Umbria Gets, Ambria Gets quindi con un po' di presunzione ma con orgoglio facciamo conoscere la nostra contraddina rurale che ha dato anche un po' origine se vogliamo al Comune di Piateda che i Piatet vengono anche detti i Valdambri quindi andiamo in questa contraddina che è suggestiva quindi benissimo il connubio ambiente in musica. Esplorerà ambienti Gets poco conosciuti invece Ermanno Librasi in concerto con Chargoudou su Quartet a venerdì 22 al Policampus di Sondrio e il giorno successivo a Lanzada. Chargoudou in lingua zera significa stella d'oriente la seconda parte è uno spettacolo multimediale che si chiama Note di Viaggio il sabato 23 io ed Elias Nardi, uno dei componenti del gruppo, suoniamo in miniera cos'hanno in comune questi due progetti? Hanno in comune l'amore per le musiche del vicino e Medio Oriente per una visione del jazz che non è guardare oltre Atlantico verso gli Stati Uniti ma è guardare al Mediterraneo. Si va in Svizzera invece con la fondazione Centro Giacometti presiduta da Marco Giacometti legata agli artisti dell'omonima famiglia da ricordare Alberto noto nel mondo per le sue figure sottili un'app conduce nei luoghi della loro vita tra Chiavenne e Lengadina mentre un concerto in memoria chiuderà il programma di Ambria Jazz il 7 agosto nel comune di Bregaglia. C'è un pubblico internazionale che si interessa di scoprire le radici e questo patrimonio immateriale deve essere comunicato con metodi molto innovative.